Sì, sicuramente il risultato parla da solo, in quanto sapevamo di trovare una corrazzata e così è stato. Abbiamo provato, siamo partiti comunque sereni, passando anche in vantaggio all'inizio. Dopodiché, quando l'attenzione della partita è scesa, sono stati messi in campo i valori e abbiamo perso 3-0. Di là della mia prova, l'importante è il risultato, in quanto abbiamo perso 3-0, mondo vi ero già entrato, avevamo vinto. Preferirei fare l'entrata così, ecco, l'importante è comunque sempre il risultato di squadra. Io se serve entro, mi faccio trovare pronto più che posso e così.